Ragazzi siamo qui con l'apertura di questo pacchetto oggi all'aperto, al vento, perché il tirpe de draghi porta fortuna con il vento. Non sapevo cosa dire sotto la prima calzata che mi è venuta a mente. Andiamo subito con l'apertura, con il vento. E allora, disintegrato, peccato perché lo volevo lasciare da parte. Settiamolo in tasca se noi inquiniamo l'ambiente. Allora, togliamo la carta codice, facciamo il trick. Attenzione, ho sentito qualcosa. Attenzione ragazzi, ho sentito qualche cosa. Qualche cosa, qualche. No, scherzavo. Roggenrola, Slakot, Magmar, Trabish, Driflum, Swablu, Silcum, Zwiljujuju, Electric e agronolo. Ragazzi, questo pacchetto era orrendo. Quindi questo video lo buttiamo al cesso con queste carte. Ciao a tutti, mettete un like per questo schifo e eccole. Alla faccia di tutti della povertà questa, alla faccia della povertà. No, scherzavo ragazzi. Scherzavo, noi. Spodiamo tutto ragazzi, scherzavo, le carte mi hanno trattate bene. Ho avuto un momento di stizza ma abbiamo ripreso il nostro agron ancora in colume. Eccolo qua. E con questo vado a comprare un altro pacchetto perché questo era brutto. Arrivederci. Grazie.